Questa è la Villa dei Misteri a Pompei, prende il nome dai dipinti di una delle sue stanze il nostro punto di partenza per conoscere una delle divinità più enigmatiche del mito. Ecco la stanza dei misteri che dà il nome alla villa, lungo i lati si snoda il racconto di un rito sul cui significato ancora si dibatte. Tutto comincia con un bambino nudo in piedi che legge un rotolo di papiro circondato da donne e poi ci sono scene di musica, di danza, di violenza, di paura e di conforto. Ci sono figure femminili umane e figure soprannaturali, satiri, sileni, una panisca cioè un demone agreste che offre il suo seno a un capretto per allattarlo. Al centro c'è un dio e qua di dubbi non ce ne sono, è Dioniso che se ne sta sdraiato ad abbracciare la sua sposa Arianna, il cui ritratto è perduto. Dioniso è il protagonista della nostra storia, eternamente giovane, bellissimo, femmineo ma in un attimo può trasformarsi in belva, in pantera, in drago. Dioniso è il prestigiatore divino, l'illusionista che governa il potere della metamorfosi, il dio che vaga senza fissa dimora, che non ha una patria, che è ovunque senza appartenere a nessun posto. Dioniso è maschio e femmina, umano e immortale, animale e divino, gioioso e furente, la sua natura ambigua sfugge ad ogni definizione. Dioniso offre all'umanità il dono del vino per aiutarla a dimenticare la sua infelicità, ma è capace di punire con crudeltà inaudita chi lo offende, è il patrono della follia. Estasi, dal greco ecstasis, uscire fuori di sé, è la parola che gli antichi usavano per descrivere gli effetti di Dioniso sugli esseri umani, ma i suoi poteri sono molti e anche il dio dei fiori, della vegetazione spontanea, del teatro. Insomma, un viaggio nei miti di Dioniso è pieno di trappole, ma forse alla fine, quando torneremo qui, saremo in grado di capire meglio i misteri dipinti sui muri. Musica 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 Questo è il Teatro Greco di Siracusa e loro sono gli allievi dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico di Siracusa che stanno provando gli spettacoli della stagione estiva in allestimento. E anche grazie a loro che questo posto resta vivo dopo millenni ed è l'ambientazione ideale per iniziare il nostro viaggio alla scoperta dei miti di Dioniso, il Dio, che è l'inventore del teatro. Il punto di partenza è la sua nascita che, come sempre quando si parla di lui, unisce due estremi perché quella nascita è al tempo stesso una catastrofe e un miracolo. Il padre di Dioniso è Zeus, il re degli dèi. La madre invece è una ragazza umana. Si chiama Semele ed è la figlia di Cadmo, re e fondatore di Tebe, l'eroe mitico che porta in Grecia la scrittura. E tra l'altro Cadmo avrà pensato che cosa ho fatto di male, visto che Zeus prima gli rapisce la sorella Europa e poi gli seduce la figlia. Fatto sta che Zeus si unisce a Semele senza rivelarsi. Era però la moglie gelosissima di Zeus, vuole vendicarsi e per farlo incomincia ad insinuare nella mente della ragazza un tarlo. Chiedigli di manifestarsi in tutta la sua potenza, le dice, perché tu conosca quale piacere è fare l'amore con un dio. Semele ci casca e Zeus la accontenta. Zeus allora si presentò in modo degno di un dio, con tuoni e fulmini, e si unì a lei apertamente. Ma Semele era incinta e non ne sopportò la potenza e morì folgorata dal fuoco. La madre incinta muore fulminata e c'è chi ha visto in queste circostanze terribili dell'ultima unione tra i genitori di Dioniso un'allusione alla follia che folgora i pensieri e trasporta altrove. Come altrove viene trasportato il feto? Zeus lo raccoglie dalle ceneri della madre e lo cuce dentro la sua coscia. Un grembo segreto, dicono le fonti, in cui Dioniso verrà nutrito fino alla nascita. E questo è il miracolo, la gestazione paterna. E infatti c'è chi pensa che il nome Dios Nisos significhi figlio di Zeus. Dopo la nascita Dioniso viene mandato in un luogo leggendario, indefinito, che esiste solo nei miti, il monte Nisa, e lì viene allevato dalle ninfe. Ma la sete di vendetta di Hera non è spenta. Una leggenda oscura che sembra quasi richiamare riti tenebrosi di sacrifici umani e di cannibalismo. Racconta che la dea manda i titani, con il volto coperto di gesso, imbiancati come spettri, a ucciderlo, farlo a pezzi e cucinarlo. I titani, cosparso il volto con del gesso ingannatore, spinti dalla rabbia profonda di Hera, lo uccidono. Dioniso si difende trasformandosi, diventa giovane, poi vecchio, poi neonato, e poi ancora tigre, cavallo, drago, serpente, riesce a resistere fino a quando Hera non interviene di persona. La dea dall'Olimpo lancia un urlo terribile che lo stordisce e allora i titani lo finiscono. Ma Zeus, il padre, non sta a guardare. Fulmina i titani, poi raccoglie i pezzi di Dioniso, li ricompone e gli restituisce la vita un'altra volta. Dioniso, facendo della fine della vita un nuovo inizio, cambia natura e si trasforma in molti esseri diversi. Nell'autodifesa di Dioniso contro i titani, in cui prende forme umane ed animali, oltre al potere della generazione si manifesta anche quello della metamorfosi. E c'è un altro episodio in cui i due poteri si uniscono. Dioniso è un dio vagabondo, ha attraversato l'Asia, è arrivato in India, ha navigato sugli oceani e sui mari. E mentre un giorno si riposa su uno scoglio lungo la costa del Mediterraneo, simile a un uomo bello e nel fiore degli anni, dicono le fonti, viene rapito dai pirati che lo scambiano per un principe. I pirati legano il dio, iniziano anche a ragionare su quanto possono chiedere per il riscatto e non si accorgono di un primo prodigio. Le corde strette attorno ai polsi e alle caviglie di Dioniso si sciolgono da sole. I lacci non avevano forza, i nodi cadevano via, lontano dalle mani e dai piedi. Egli sedeva, sorridendo con occhi bruni. È bella e anche un po' inquietante l'immagine di Dioniso che se ne sta tranquillo e sorridente come se nulla lo toccasse. Intanto l'unico ad accorgersi che qualcosa non torna è il timoniere che incita i suoi a lasciare libero il prigioniero misterioso. Disgraziati, chi è mai questo dio che avete preso? Lasciamolo libero sulla costa, subito, e non mettetegli le mani addosso. Che sdegnato, non desti venti furiosi, è una grande tempesta. Accecati dal dio della follia, i pirati non danno retta al timoniere. Allora Dioniso, sempre sorridendo, sempre con la sua aria a buon aria, continua con i prodigi. Dal legno della nave sgorga il vino, dalle vele pendono tralci di vite, attorno all'albero si attorciglia l'edera. Solo a questo punto i pirati si rendono conto di essere nei guai e cercano velocemente di accostare verso la riva. Ma è troppo tardi, Dioniso ha smesso di sorridere. Il dio divenne leone terribile. Sguardo crudele balzò di improvviso ed essi, per sfuggire alla sorte, si tuffarono nel mare e divennero delfini. Anche il timoniere sta per tuffarsi in mare, ma Dioniso lo ferma. Non avere paura, gli dice, a te non succederà niente. Così in questo episodio si rivela il volto doppio del dio, lo sguardo crudele del leone che punisce chi nega la sua natura divina e la quiete e la beatitudine che vengono invece donate a chi la riconosce. Ma riconoscerla non è facile, perché lui raramente si presenta come un dio. In questo caso lo abbiamo visto nelle vesti di un giovane uomo con un mantello di porpora. In altri è un sacerdote, uno straniero, un orientale. Ed è forse per la sua passione, per i travestimenti e le maschere che c'è lui all'origine del teatro. Secondo Aristotele, la tragedia deriva dai canti corali in onore del dio, i ditirambi, mentre la commedia nasce dalle feste dionisiache in cui, tra lazzi e scherzi, si porta in processione un enorme fallo di legno. Sia i ditirambi, sia le processioni falliche hanno un cantore solista che a un certo punto inizia a dialogare, improvvisando, con il gruppo dei celebranti fingendosi un eroe o un dio. E proprio da queste improvvisazioni e interpretazioni nasce il teatro. Per gli antichi il primo a mettere in scena una tragedia è il leggendario Tespi, ad Atene, nel 535 a.C. All'inizio si copre il volto semplicemente con della polvere bianca. Poi inizia a indossare una maschera. Per la sua performance teatrale, Tespi riceve in dono un caprone. Per questo un tempo si pensava la tragedia fosse il canto rituale intonato durante il sacrificio di un capro, in onore di Dioniso. Tragos, capro. Eode, canto. Tragodia, tragedia. Ad Atene, gli spettacoli teatrali si allestivano durante le feste dedicate a Dioniso. Le grandi Dionisie, che richiamavano pellegrini e spettatori, da tutta la Grecia. Dopo i sacrifici, la processione e i canti religiosi, in onore del Dio, iniziavano gli spettacoli, durante i quali Dioniso era sempre presente. Il coro danzava intorno al suo altare e il sacerdote sedeva nel posto d'onore. Per una coincidenza del destino, l'ultima opera dell'ultimo grande poeta tragico atteniese, Euripide, è dedicata proprio a Dioniso, il Dio fondatore del teatro, anzi lui stesso ne è il protagonista. Si chiama Le Baccanti, cioè Le Seguaci di Bacco, un altro nome del Dio. Per raccontarla abbiamo cambiato scenografia e siamo venuti nell'atomia dei Cappuccini, a Siracusa. Le latomie erano cave di pietra, oggi questa è una selva rigogliosa in città e con le sue rupi a picco, le sue grotte, i suoi anfratti, i suoi lembi di foresta, aiuta a immaginare le montagne selvagge in cui si radunano le baccanti invasate da Dioniso. Tra l'altro, una curiosità, in queste cave furono messe ai lavori forzati e trovarono la morte molti ateniesi catturati dai siracusani durante la guerra del Peloponneso, si vedono ancora sulle pareti i segni delle picconate. Alcuni però furono risparmiati perché sapevano recitare a memoria le poesie di Euripide, in questo caso si può dire che il dio del teatro salvò le loro vite. Tornando alla nostra storia, tutto comincia a Tebe, la città in cui Dioniso è nato e in cui fa ritorno dopo i suoi vagabondaggi in giro per il mondo e una notizia che ci dà lui in persona. Ho percorso l'Arabia Felice e tutta l'Asia. Là ho fondato i miei riti e le danze sacre e sono giunto qui a Tebe per rivelarmi come Dio ai mortali. Per prima cosa, appena arrivato, rende omaggio a sua madre e va a vedere il luogo in cui è stata fulminata. Qui, vicino alla reggia, vedo il sepolcro di mia madre folgorata e le macerie fumanti della sua casa, dove il fuoco di Zeus arde ancora. Il segno della vendetta di Hera contro mia madre. Ora facciamo un quadro di famiglia della casa regnante di Tebe. Il vecchio re, che si chiama Cadmo, ha ceduto il regno al nipote, che si chiama Penteo, il quale è figlio di Agave, che è sorella di Semele, la madre di Dioniso. Dioniso, quindi, è cugino del re e nipote della regina madre, ma il suo ritorno a casa non è trionfale. Scopre che Agave e le altre zie non hanno mai creduto agli amori divini della sorella, anzi sono convinte che lei avesse un amante umano e per coprire la tresca si fosse inventata la storia degli amori con Zeus. Ovviamente Dioniso non tollera che la memoria della madre venga profanata e punisce le zie con la sua solita arma, la follia. Io le ho costrette ad uscire di casa, percosse dal pungolo della follia e ora abitano sui monti prive di segno. Non contento di aver fatto impazzire le zie, Dioniso allarga la vendetta a tutte le donne di Tebe, e di tutte le età, giovani, vecchie, madri di famiglia, ragazzine, vergini, lasciano le case e svuotano la città. Anche tutte le altre donne ho costretto ad uscire di casa. Folli, hanno dimora tra gli abeti e le rocce nude. Anche se non lo vuole, questa città imparerà a conoscere i riti segreti di Bacco. Intanto il re Penteo viene a sapere che un giovane bellissimo, coi riccioli biondi e profumati, venuto dall'Oriente, ha invasato le donne tebane, loro lo hanno seguito nei boschi, hanno lasciato in casa i bambini a piangere, passano il tempo invece ad allattare lupacchiotti e cerbiatti. Il re pensa che il santone, con la scusa dei riti misteriosi, lui voglia solo sedurre le donne di Tebe e ordina così di arrestarlo e metterlo a morte. Seguite questo straniero che sembra una ragazza, che inietta una strana malattia alle nostre donne e contamina i nostri letti. Se lo catturate, portatelo qui ben legato, perché muoia a colpi di pietra. Dioniso si lascia arrestare, sempre soave, sempre con quel suo sorriso beffardo e inizia una vertigine di inganni, di magie, di trasformazioni. Fa incatenare un toro al posto suo, fa comparire un fantasma con le sue sebbianze, un gioco del gatto con il topo in cui il re, reso cieco come i pirati, ignora tutti gli avvertimenti. Tu non sai quello che ti sta accadendo, né quello che fai, neppure chi sei. Non ti lasci convincere, non dai ascolto alle mie parole. Anche se mi offendi, io ti consiglio di non assalire il dio. La trappola in cui il re si infila è terribile. Dioniso gli insinua la curiosità di assistere alle danze selvagge, ai riti violenti in cui le donne fanno a pezzi, a mani nude gli animali. E lui non resiste, addirittura si lascia travestire da donna per confondersi tra le baccanti. A questo punto il dio chiude la rete e chiama raccolta le sue seguaci. Ragazze, vi porto l'uomo che rideva di voi, di me e dei miei riti. Punitelo. Le baccanti si avventano sul re e lo fanno a brandelli. Prima fra tutte, la madre Agave, che è posseduta dal dio, non lo riconosce. Anzi, convinta di aver ucciso un leone, torna in città portando in trionfo la testa mozzata del figlio. E a questo punto la vendetta di Dioniso diventa ancora più crudele perché la fa rinsavire di colpo in modo che si renda conto di ciò che ha fatto. Di fronte a una mostruosità simile, anche il poeta antico non sa bene come uscirne e se la cava con una morale generica. Bisogna rispettare gli dèi. Essere moderati e onorare gli dèi è la cosa più bella. Questo è, credo, l'insegnamento più saggio per gli uomini. Questi sono alcuni dei miti di Dioniso. Ma come erano i suoi riti, veramente? Erano proprio così spaventosi e violenti? Probabilmente no. Probabilmente si tratta di un'esagerazione poetica. In ogni caso, non ne sappiamo molto. E allora, per fare un po' di luce, dobbiamo basarci sugli oggetti e sui gesti. Lo strumento principale di Dioniso è il tirso, un bastone decorato con tralci d'edera che simboleggiano il potere rigenerativo della natura. La sua veste è una pelle di leopardo che ne sottolinea il carattere selvaggio. E poi c'è il suo seguito, i satiri, spiriti semi animaleschi dei boschi. E le baccanti, chiamate anche menadi, che danzano rovesciando la testa all'indietro fino allo sfinimento, al ritmo di una musica ossessiva. E infine c'è il vino, il mezzo per raggiungere l'ebbrezza, l'entusiasmo, che alla lettera vuol dire avere un Dio dentro di sé, un altro dei poteri di Dioniso. Tutti questi elementi convogliano nei riti, nei misteri di Dioniso, che venivano chiamati orge, ma non avevano niente a che vedere con il significato erotico che diamo noi oggi alla parola. Erano invece un'esperienza mistica, una vibrazione all'unisono con la natura, una follia sapiente che donava beatitudine. Sempre mal vista dai benpensanti di ogni luogo e di ogni epoca, e per rendersene conto basta sentire come lo storico Tito Livio descrive l'arrivo dei baccanali nel mondo romano. Un greco senza nome arrivò in Etruria, uno stregone, un ciarlatano, un sacerdote di riti segreti compiuti di notte. Un greco senza nome, uno straniero, sembra quasi di rivivere l'arrivo a Tebe di Dioniso travestito da orientale. Anche questo stregone, questo ciarlatano, come viene definito, scardina l'ordine sociale. All'inizio insegna i suoi misteri a pochi, poi però quando aggiunge agli elementi sacri anche il vino, al culto si avvecinano in molti. Quando il vino infiammò le loro menti e la notte e la promiscuità tra maschi e femmine, giovani e mature, distrusse la modestia, ogni genere di depravazione iniziò ad essere praticata. La mentalità romana, solida, razionale, refrattaria ad ogni novità, non regge l'urto dirompente dei riti bacchici con le loro fiaccolate, i loro cortei notturni, l'ebbrezza alcolica, i seguaci del Dio vengono accusati di ogni nefandezza, correvoce che al buio si commettano omicidi, che le musiche servano a coprire le urla degli assassinati, che dopo i baccanali, le campagne e i boschi siano disseminati di cadaveri. La reazione delle autorità è durissima, la repressione si abbatte con divieti, detenzioni nelle carceri e anche con condanne a morte, 7.000 persone sono coinvolte. E per chiudere la faccenda, nel 186 a.C., il Senato emana un decreto rimasto famoso, il Senatus Consultum de Baccanalibus. Nessun cittadino, romano, latino o alleato vada dalle baccanti. Nessuno sia sacerdote. Nessuno, uomo o donna, sia maestro dei culti. Nessuno celebri i riti se sono presenti più di 5 persone. Con questo provvedimento, il pericolo della diffusione di un culto orgiastico di massa a Roma viene scongiurato. Solo i santuari di Bacco più antichi, campagnoli, marginali, sopravvivono alla repressione. Ma il potere della seduzione di Dioniso non ha mai smesso di esercitare il suo fascino eccessivo e ha ispirato grandi figure del mondo antico, a partire dal precedente greco di Alessandro Magno per arrivare fino a Marco Antonio. Alessandro Magno viene iniziato ai riti dionisiaci da sua madre Olimpiade, devota del Dio e, si dice, appassionata dei riti orgiastici. I punti di contatto tra Alessandro e Dioniso sono molti. Come Dioniso, Alessandro proclama di essere figlio di Zeus. Come Dioniso, viaggia e arriva fino in India. Secondo alcuni, la sua intenzione era proprio ripercorrere le orme del Dio nei suoi vagabondaggi in Asia e Oriente. Per celebrare la vittoria sul leggendario re Poro, Alessandro mette in scena un corteo dionisiaco, come aveva fatto il Dio quando con il suo esercito di satiri e baccanti aveva sconfitto gli indiani. Marco Antonio veniva chiamato Nuovo Dioniso per il suo stile di vita eccessivo, un'identificazione tra lui e il Dio che non gli dispiaceva. Entrò ad Efeso preceduto da donne vestite da baccanti e uomini e ragazzi vestiti come satiri. La città era piena di musica e la gente lo salutava come Dioniso che dona la gioia. Ad Alessandria, nei dipinti e nelle statue, si faceva raffigurare insieme a Cleopatra come Dioniso, mentre lei era Selene o Iside. La fusione su cui Marco Antonio insiste tra se stesso e Dioniso Bacco non gli porterà bene. In Oriente, terra di misteri, ha senso, ma a Roma no. Ottaviano, il futuro Augusto, la userà assieme al matrimonio con Cleopatra per screditarlo, fargli la guerra e sbarazzarsene. Durante l'età imperiale il culto di Dioniso resiste in Occidente in forma privata mentre continua a prosperare in Oriente. Poi con l'avvento del cristianesimo tutti gli attributi dionisiaci, i satiri, le menadi, le baccanti, entrano nella sfera del maligno, diventano diavoli e streghe, diventano servi di Satana. Umanesimo e Rinascimento recuperano la figura di Bacco. Michelangelo ne scolpisce un ritratto bellissimo in cui emerge il suo aspetto androgino, dolce ed inquietante. Lorenzo il Magnifico scrive la canzone di Bacco, quella famosissima, quella del quante bella giovinezza che si fugge tuttavia, e molti altri artisti, tra cui più tardi Caravaggio, dipingono il dio del vino. Ma per loro Dioniso è il simbolo dei piaceri della vita, un incitamento a cogliere l'attimo. Il suo lato più irrazionale e visionario è dimenticato e sepolto, fino a quando nel 1872 il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche pubblica La nascita della tragedia. Nietzsche rimette in circolo nella cultura occidentale l'idea dell'esperienza dionisiaca, dell'estasi, dell'andare oltre la ragione all'inseguimento di nuove forme di percezione. Un'idea che attraversa tutto il ventesimo secolo e che ha sedotto i personaggi più imprevedibili come Jim Morrison, leader dei Doors, band californiana. Jim Morrison era sinceramente convinto che i suoi concerti fossero orge dionisiache rinnovate, in cui esplodeva l'energia della vita, in cui alcol e droghe spingevano verso nuove dimensioni della conoscenza, in cui batterie, chitarre elettriche e tastiere si sostituivano ai cembali e ai flauti, un'edizione contemporanea dei misteri di Dioniso. Una delle sue canzoni manifesto è Break on through to the other side, che significa appunto fa irruzione dall'altra parte, dall'altra parte della mente, della ragione, della conoscenza. You know the day destroys the night, night divides the day, try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, Per chiudere il cerchio siamo tornati a Pompei, alla Villa dei Misteri, e dopo aver raccontato il mito ed esplorato il poco che sappiamo sui riti di Dioniso, possiamo cercare di dare una spiegazione al significato degli affreschi, seguendo la sequenza delle scene dipinte. La sequenza comincia, come abbiamo visto all'inizio, con un bambino nudo in piedi attorniato da donne che legge un papiro. Secondo alcuni, su quel papiro sono scritte le regole, i passaggi del rito. Dalla scena poi si stacca un'altra donna che porta su un vassoio delle offerte. Nel secondo quadro si vedono altre donne che sistemano su una tavola altre offerte, una versa dell'acqua e poi c'è un vecchio sileno che suona la lira, un essere soprannaturale e quindi da questo punto in avanti il mondo umano e quello divino si mescolano. La storia prosegue con due demoni agresti, due panischi, uno sta suonando una siringa, l'altra, una femmina, sta allattando un capretto al suo seno. Poi c'è una donna chiaramente spaventata, agitata, ha visto qualcosa che le fa paura, forse la maschera teatrale grottesca che lì accanto tiene un giovane satiro. Sotto la maschera un anziano sileno offre da bere forse del vino a un giovane satiro. Al centro poi c'è il dio Dioniso abbracciato alla sua sposa Arianna. Subito dopo un altro passaggio del rito. Una donna sta per alzare il velo su un oggetto di forma fallica, simbolo della forza generatrice. Poi tutto accelera in modo drammatico. Un demone alato agita una frusta e una ragazza sconvolta cerca conforto in grembo a una donna. Secondo alcuni è proprio quella ragazza che è stata frustata. La tensione poi alla fine si scioglie in una danza liberatoria. Quindi qui, in una villa sepolta da un vulcano duemila anni fa, abbiamo ritrovato tutti gli elementi dei racconti mitici. Le parole sacre, le offerte rituali, i sentimenti di unione con la natura e il mondo selvaggio, le figure mostruose, le maschere teatrali, la paura, la violenza, la follia e poi la musica e le danze ritmate. E alla fine di questo percorso accidentato la serenità di una nuova armonia, il dono che il Dio, adagiato in grembo alla sua sposa, concede a chi si abbandona a lui senza riserve. Grazie a tutti.